Il nostro Ateneo ha dei collegamenti insospettabili ma importantissimi con la Giordania, da una parte il Tempio Nabateo di Puteoli, c'erano degli abitanti di Petra che nel primo secolo a.C. venivano a Pozzuoli e la nostra Università ha proficuamente collaborato agli scavi che hanno portato alla luce questo Tempio straordinario, dall'altra parte i papiri ercolanesi di Filodemo di Gadara, un autore epicureo del primo secolo a.C. che sono conservati dalla Biblioteca Nazionale di Napoli e che il nostro Ateneo in collaborazione con la Federico II e con l'Università del Kentucky sta adesso aprendo, svolgendo virtualmente per leggere nuovi testi, quindi grandi prospettive, un protocollo d'intesa che vogliamo avviare con la Giordania per arrivare a nuovi risultati della ricerca e soprattutto per fare condivisione della ricerca e crescere insieme.